SIGLA GIA SIGLA SIGLA Gia' Dico, non faccia male. Agostine era venuta sia a tolchino un piano, Seminare la paura, il panico, il caos, ed emergere come salvatrice. Ma il suo piano si è infranto contro i mostri che lei ha creato. Fetch, Eugene e me. Per due settimane Augustine ha controllato Seattle. Ora toccava a noi. Chi avrebbe potuto fermarci? Ah, e le centinaia di conduit che Augustine ha imprigionato tra le mura di Cardon Cay? Li attenderò all'uscita e stringerò la mano a ciascuno di loro. Così tanti poteri, tutti insieme. Un bambino in un negozio di caramelle. Ma prima ho una promessa da mantenere. Ehi, popolo Akomish! L'eroe è tornato a casa! La mia Betty! Piano, piano! Sono qui per salvarvi! T'ho visto al telegiornale. Hanno mostrato... tutto quanto. Ok, ok, ascoltate. Ho visto uccidere decine di persone innocenti. Che cosa volevi che facessi? Non potevo lasciare che qualcuno o qualcosa mi impedisse di tornare da voi. Per salvarvi tutti! Siamo Akomish. Ci aiutiamo l'un l'altro, giusto? Ehi, ehi, vacci piano. Hai disonorato la nostra gente. Hai disonorato i nostri antenati. E hai disonorato la memoria di tuo fratello. Tu non sei più un Akomish. Tu... e tutti gli altri morirete senza di me. L'avete dimenticato. Non l'abbiamo fatto. E non lo faremo mai. Magh. 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 Grazie a tutti.